Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Stan, vi do il benvenuto qui al canale siamo qui come potete vedere su Raft, siamo sempre sull'isola che abbiamo scoperto un paio di gameplay fa e riprendiamo la nostra esplorazione e diciamo che forse riusciamo anche a finirla questa esplorazione adesso devo capire un attimo come procedere la modalità di gameplay per questo gioco dovrebbe cambiare per cui io in teoria adesso vi lascerò al gioco, al gameplay però prima di lasciarvi al gameplay io comunque vi invito come sempre se non l'avete ancora fatto andate giù, iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campione delle notifiche per non perdere nessun gameplay, lasciate come sempre con il pollicione in su che andiamo ad altri qui di Emilio un like e i mi piace come piovesse, inoltre tutto commentate fatemi sapere la vostra condividete il video a destra e a manca con amici parenti, cugini, zii, nipoti, che più siamo o meglio è inoltre tutto in descrizione trovate un link che vi permette di supportare il canale con qualche piccola nozione trovate il link inoltre di discord e telegram, seguitemi anche lì ok allora detto ciò e andando avanti qua io vi lascio il gameplay e buona visione ci vediamo alla fine ciao 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 mi sembra di capire vabbè ma possiamo far così volendo teoria se stacco dovrei avanzare esatto eccolo la ok andiamo più avanti che possiamo va bene noi ci vediamo al prossimo gameplay qui sul canale come sempre io vi ricordo e vi invito ad andare giù in descrizione e iscrivetevi mi raccomando supportate il canale e i video che faccio ciao a tutti e alla prossima ciao ciao